Secondo l'accusa sarebbero loro i responsabili di almeno quattro episodi di furto, due messi a segno e due solo tentati a novembre 2020 nei comuni di Binetto, Cassano delle Murge, Toritto e Acquaviva delle Fonti. Su disposizione del GIP del Tribunale di Bari sono scattate le manette nei confronti di cinque soggetti indagati tra i 20 e i 43 anni residenti nei quartieri San Paolo di Bari e Cecilia di Modugno. Le indagini si sono avvalse delle immagini di videosorveglianza degli appartamenti presi di mira dai malviventi, i quali hanno agito anche in pieno giorno e con passamontagna avrebbero messo a segno i loro colpi anche grazie ad un'auto nera rubata. Nelle due circostanze andate a buon fine i ladri sono riusciti a portare via diversi oggetti in oro, tre di loro furono anche beccati dai carabinieri l'11 novembre 2020. Dopo il furto commesso a Toritto, intercettati da un posto di blocco, non si fermarono all'alt dei militari dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. L'attività investigativa ha inoltre consentito di recuperare alcuni oggetti rubati da un'abitazione a Ruvo di Puglia il 20 novembre del 2020. Preziosi che sono stati restituiti ai legittimi proprietari al termine delle indagini sono quindi scattate le manette. In quattro sono finiti nelle case circondariali di Bari e Lecce. Tra loro anche il 23enne che il 19 marzo scorso è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nel quartiere San Paolo. Il quinto soggetto, un 23enne, è finito ai domiciliari.